Andrea Raffa Revisore Sono arrivato qui a Lerici nel 2013, in questo angolo di paradiso, per studiare questi animaletti qui, per studiare il plankton, dal greco planktos, the wanderers, i vagabondi, coloro che girovagano. Lavoravo all'interno di un grosso progetto europeo che si occupava di studiare la connettività fra le aree marine protette del Mediterraneo e come le varie aree marine protette del Mediterraneo fossero collegate tra di loro attraverso le correnti marine superficiali. E per studiare come questi meravigliosi animali, che sono alla bassa di tutte le catene alimentari marine, e si spostano da un'area marina protetta all'altra sulla superficie del Mediterraneo, usavamo questo strumento qui. Si chiama retino neuston, è nient'altro che un retino con una maglia molto fine che raccoglie al suo interno tutti questi microscopici organismi. Questo retino viene trainato, di solito, da una nave oceanografica per qualche minuto, e un campione di plankton, una volta che viene portato a bordo delle nostre navi, pulito, dovrebbe apparire più o meno così. Cioè una massa gelatinosa, in forme, di microscopici animaletti che, se osservati al microscopio, rivelano tutta la loro magnificenza. Sin dal primo campione che abbiamo raccolto il Mediterraneo, però, ci è apparso subito chiaro che la situazione era ben diversa. Questo è stato il primissimo campione di plankton che io ho raccolto sulla superficie del mare Adriatico nel 2013, e appare subito evidente, e qui vi riporto degli altri esempi, come al di là del plankton, degli organismi che noi eravamo interessati a studiare, c'era qualcos'altro. Centinaia, una miriade di frammenti colorati diversi di plastica, le cosiddette microplastiche, quindi frammenti di plastica più piccoli di 5 mm. E qui vi porto anche questa immagine di un campione che abbiamo raccolto a largo del Golfo di Napoli, sempre tra il 2013 e il 2014, e con una scritta che direi quasi profetica, insomma, non so se riuscite a leggere Enjoy Packaging. Abbiamo capito quindi che c'era qualcosa che non andava sulla superficie del Mediterraneo, e abbiamo incominciato a voler descrivere il problema, a voler quantificare, a voler adottare appunto un metodo scientifico, studiare nel dettaglio le caratteristiche di queste particelle, quantificarle. Qui vedete la distribuzione di tutti i campioni che ho raccolto nel corso di quegli anni a bordo delle navi oceanografiche, in giro per il Mediterraneo. Poi ci sono voluti anni di lavoro, di duro lavoro in laboratorio, per quantificare, contare, analizzare, classificare ogni singolo frammento di plastica raccolto dal nostro retino. E alla fine, dopo anni di lavoro, abbiamo pubblicato i risultati di questo studio su una rivista che è molto prestigiosa, e l'abbiamo intitolato The Mediterranean Plastic Soup. La zuppa di plastica del Mediterraneo, che, ahimè, non è una ricetta di pesce, ma è purtroppo la situazione attuale della superficie del mare Nostrum, di uno dei mari più belli del mondo, è quella che vedete qui in fotografia. Correva l'anno 2013, come vi ho detto. All'epoca, in realtà, si sentiva parlare ancora molto poco di microplastiche. Oramai sono sulla bocca di tutti, però nel 2013 c'era solo una manciata di articoli scientifici, come vedete da questo grafico, pubblicata sull'argomento. Nonostante i ricercatori erano già dagli anni 60-70 che segnalavano la presenza di queste particelle sulle superfici del mare. Di lì, a qualche anno, l'interesse della comunità scientifica e del pubblico di pari passo è cresciuto esponenzialmente, e io mi ci sono trovato letteralmente nel mezzo. Parallelamente, la produzione e il consumo globale di materie plastiche aumentava esponenzialmente anche egli. E qui, nel grafico a destra, potete apprezzare il trend di crescita della produzione di polimeri sintetici. D'altronde, il problema non poteva passare inosservato, perché pensate che la massa, in termini di peso, di polimeri sintetici prodotti dall'umanità dal 1950, quindi quando abbiamo inventato questi polimeri ad oggi, equivale, in termini di peso, al doppio della massa di tutti gli organismi marini e terrestri messi insieme. Produciamo tantissima plastica e, inevitabilmente, una parte, una frazione di questa plastica, a dire vero una piccola frazione di questa plastica, finisce in mare ogni anno. Si stima che finiscano, negli oceani di tutto il mondo, circa 8 milioni di tonnellate di plastica all'anno. Questa è una cifra gigantesca. Per darvi un'idea dell'ordine di grandezza, vuol dire che un camion della spazzatura viene riversato interamente in mare ogni minuto di ogni giorno dell'anno. Ma quello che io trovo veramente terrificante è che questa quantità di plastica corrisponde esattamente alla quantità di tonno che noi preleviamo dai mari di tutto il mondo ogni anno. 8 milioni di tonnellate di tonno ogni anno vengono rimpiazzate da 8 milioni di tonnellate di plastica. Io sono un ricercatore. Mi piace, come von Humboldt, qualche secolo prima, unire i puntini per trovare delle risposte. Per cercare di rispondere a una domanda importantissima, cioè che fine fa questa plastica una volta che finisce in mare, i ricercatori sono andati in giro per il mondo, me compreso. Ho passato più di 500 giorni a bordo di navi oceanografici in giro per il mondo. Quella che vedete su questa mappa è la distribuzione di tutti i campioni di microplastica raccolti nei mari di tutto il mondo nel 2014. Balza subito all'occhio che ci sono delle zone completamente inesplorate, e mi riferisco in particolare alle zone polari, al Polo Nord e al Polo Sud. Non sapevamo quanta plastica c'era in queste aree del mondo, se c'era arrivata e tramite quali meccanismi. Ma perché proprio il Polo Sud? Il Polo Sud, vi faccio vedere questa immagine che trovo molto bella, è la proiezione di Spillhaus, è un punto di vista inusuale sul nostro pianeta, che, contrariamente diciamo a quello che siamo abituati a vedere, tutti i mari del mondo come dei bacini separati, in realtà sono tutti parte di un unico mare, collegato tra loro dalle correnti profonde e le correnti superficiali, al cui centro c'è l'Antartide, che è il vero e proprio motore della circolazione globale. E per rispondere a questa domanda, quindi, la plastica è arrivata fino in l'Antartide, che tra il 2016 e il 2017 ho avuto l'immenso onore e la fortuna di partecipare ad una storica spedizione di circumnavigazione del continente antartico. A bordo di questa bellissima nave, una rompighiaccio russa, l'Accademic Trechnikov, che è stata la mia casa per cinque lunghissimi mesi, abbiamo effettuato un periplo completo di tutto il continente antartico e qui abbiamo percorso più di 28.000 miglia, qui potete apprezzare un po' la rotta che abbiamo percorso, fermandoci a visitare una dozzina fra isole antartiche e subantartiche, fra le isole più remote e inesplorate del nostro pianeta. Non è stato facile, che sia ben chiaro. Navigare a quelle latitudini non è un'operazione semplice. Tempeste gigantesche, letterarie direi, con onde alte fino a 18 metri. Difficoltà di tutti i tipi, ma siamo stati ripagati dalla bellezza dei posti che visitavamo, sui quali pochi esseri umani hanno avuto il privilegio di posare i propri occhi. Durante la navigazione, ovviamente, noi armati dei nostri rettini continuavamo a raccogliere i campioni di plankton, per cercare di capire quanta plastica c'è in Antartide e come ci arriva. In realtà, la plastica e me l'abbiamo trovata anche in Antartide, praticamente ovunque siamo andati, seppur in concentrazioni basse. Abbiamo faticato non poco per recuperare qualche manciata di frammenti plastici. E quindi, mentre navigavamo noi eravamo abbastanza convinti e relativamente convinti di star navigando in uno degli oceani più puliti del mondo. Pensavamo di essere in una delle ultime frontiere dell'incontaminato. Fino a che, per quel bellissimo concetto di serendipità, coniato da Horace Walpole a metà del 1700, per puro caso abbiamo fatto questa scoperta. La scoperta è avvenuta a bordo della rompighiaccio che vi ho fatto vedere prima, dove c'erano tantissimi altri ricercatori che si occupavano di studiare gli aspetti più disparati dell'ecosistema antartico. E ci hanno, diciamo, questi colleghi sudafricani si occupavano di studiare il fitoplancton, le microalghe, e nei loro campioni continuavano a vedere queste fibre colorate, queste piccole fibre colorate. Quindi ce le hanno fatte vedere, ci hanno chiesto cosa ne pensassimo, se pensassimo che fossero microfibre di plastica. E noi ovviamente abbiamo detto di sì, molto probabilmente sono fibre plastiche, però eravamo convinti che queste fibre derivassero da una contaminazione della nostra nave, cioè che la presa a mare, la presa d'acqua dalla quale questi colleghi raccoglievano i loro campioni, fosse posizionata troppo vicino agli scarichi delle lavatrici della nostra nave. Noi eravamo convinti di ciò, perché non pensavamo che in Antartida, in uno dei luoghi più remoti al mondo, ci potessero essere questo tipo di inquinante. E quindi per fugare questo dubbio, per cercare di capire se effettivamente queste fibre erano presenti in mare oppure no, siamo tornati back to basics, alle basi, all'inizio della ricerca scientifica, abbiamo preso un secchio di metallo, siamo andati a prua della nostra nave, durante la navigazione, abbiamo preso una secchiata d'acqua, in maniera tale da essere sicuri che stessimo prendendo dell'acqua attraverso la quale la nave non era ancora passata e quindi incontaminata. Abbiamo preso questa secchiata d'acqua, l'abbiamo portata in laboratorio, l'abbiamo filtrata su di un filtro a maglia molto fine e questo è quello che abbiamo trovato. Non riuscivamo a credere ai nostri occhi, questo è stato uno dei momenti più emozionanti di tutta la mia carriera scientifica e non riuscivamo a capire come fosse possibile che a migliaia di chilometri dalla città più vicina ci fossero centinaia e centinaia di piccole fibre tessili colorate in un solo secchio d'acqua. Quindi ovviamente le domande hanno incominciato ad affollarsi nella nostra mente e più raccoglievamo questi campioni più ci rendevamo conto che il problema era grosso. Quindi io ho deciso di rimanere a bordo un altro mese, di non sbarcare a Cape Town in Sudafrica ma di percorrere tutto l'Atlantico nella sua interezza per accompagnare la nave nel suo viaggio di ritorno in Germania, raccogliere campioni per cercare di capire queste fibre da dove vengono, la loro concentrazione aumenta all'avvicinarsi dei centri di popolazione umana oppure no. E quindi sono rimasto a bordo della nave, quella che vedete su questa mappa è la distribuzione globale di tutti i campioni che sono riusciti a raccogliere nel corso di quella spedizione. E poi, come vi ho detto prima, le domande si affollano. E' bellissima la ricerca scientifica perché le domande si moltiplicano sempre, non si giunge mai ad una risposta e ovviamente ci siamo chiesti. Ma queste fibre probabilmente avranno un impatto sugli ecosistemi antartici. Gli organismi che vivono in Antartesi staranno interagendo con queste fibre. Quindi abbiamo deciso di approfondire anche questo argomento. Siamo sbarcati in questa colonia di pinguini, la colonia di pinguini reali di St. Andrew's Bay. Pensate che questa è la colonia di pinguini più grande del mondo. Su queste colline vivono più di centomila pinguini, praticamente gli abitanti di una città di media dimensione. Non è un posto semplice dove lavorare, pensate che si sprofonda nel guano fino alle ginocchia, c'è una puzza nauseabonda, bisogna farsi largo fra decine di carcasse di pinguini in decomposizione. Però noi eravamo lì, io ero personalmente affascinato da questa visione, con una missione, cioè raccogliere dei campioni e cercare di capire se queste fibre stessero permeando l'ecosistema oppure no. Abbiamo raccolto i nostri campioni, li abbiamo analizzati in laboratorio e ovviamente, non mi dilungo, ma anche nel guano dei pinguini abbiamo ritrovato tantissime fibre tessili. Da dove vengono queste fibre? Beh, probabilmente ne avete già sentito parlare tutti. Sicuramente le lavatrici sono una delle fonti primarie. Pensate che un singolo ciclo di lavaggio, di capi di abbigliamento, di uso comune, può rilasciare qualche milione di fibre nelle acque di scarico che, se non trattate adeguatamente, finiranno, o inevitabilmente, in mare, nei fiumi e poi in mare. Ma se ci pensate, pensateci bene, la quantità di tessile che ci circonda nelle nostre vite quotidiane è gigantesca. Pensate ad una bandiera che si sfilaccia nel vento. Pensate adesso a quante bandiere ogni giorno sventolano sulla poppa delle navi e delle imbarcazioni di tutto il mondo. Pensate a quante bandiere sventolano sulle facciate dei palazzi, delle scuole, dei comuni, di tutto il mondo. Ho pensato, invece, al pulviscolo, quello che si deposita sugli schermi delle nostre televisioni o dei nostri computer. Altro non sono che piccole fibre tessili. E provate a pensare a quante lenzuola, tappezzerie, tappeti, tovaglie e tessili di tutti i colori e i materiali ci circondano nella nostra vita quotidiana. Moltiplicate questi numeri per le otto miliardi di abitanti di questo pianeta e avrete un'idea del problema. Il problema è enorme, è vastissimo. E spesso, quando racconto dei risultati delle mie ricerche, inevitabilmente mi viene chiesto ma cosa possiamo fare, quali sono le soluzioni. Io, personalmente, non ne ho di soluzioni. Io mi occupo di descrivere quella che è la situazione del nostro mare. e poi ci sono tantissimi colleghi preparatissimi che lavorano, stanno lavorando in questi giorni a trovare delle soluzioni. Mi piace però solo concludere ricordandovi che possiamo applicare, in qualsiasi ambito della nostra vita, il famosissimo principio delle tre erne, cioè ridurre, riutilizzare e riciclare il più possibile. Quindi, consumare di meno, comprare di meno, lavare di meno. E con la consapevolezza che, se moltiplicate per otto miliardi di persone, le conseguenze delle nostre azioni, per quanto piccole essi siano, spesso diventano molto più evidenti, anche a decine di migliaia di chilometri dalle nostre lavatrici. Grazie. Applausi Grazie.